Una sera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncovilaccio fino al 28 febbraio. C'è anche un chilometro di coda per lavori tra Baldichiana e Monte San Savino. In direzione Roma si segnalano rallentamenti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. Code in uscita a Firenze Scandici, provenendo da Bologna, e due chilometri di coda per lavori tra Rezzo e Baldichiana. Spostandoci in A11, Code tra Firenze Ovest e Prato Est, in direzione Pisa. Rallentamenti per una perdita di carico tra Prato Est e l'allacciamento con l'A1, verso Firenze. Infine sulla FIPILI, Code in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Code a tratti tra Scandici e Firenze Scandici, verso Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!